ok ci siamo ciao ragazzi benvenuti in questo ennesimo video sono con alex ciao ragazzi forse un po con un po di hack va bene niente parliamo un pochettino di radamello noi due non ci siamo proprio confrontati quindi ne parliamo praticamente forse ora per la prima volta così abbiamo chiacchierato un pochettino esteticamente a me piace e a te no così proprio riassumendo no dai un po drastico la vera per riassumere alla fine a me ha convinto dopo che ho visto che comunque come dicevo nel video precedente l'armatura il design non è stato inventato dagli sviluppatori ma effettivamente fedelissimo a quello che c'è nel manga l'ho guardato meglio ed effettivamente allora visto che è fedele visto che così nel manga è comunque bello allora mi piace l'ho rivalutato molto molto figo quindi questo è il mio super riassunto concordo dai è un bel pg graficamente non gli si può dire nulla mi piace anche questo questo colore rosso questo questa specie di bordo così non lo so molto sportiveggiante ecco questo sembra rosso borgogna vino vinaccia molto molto carino comunque è un pg molto bello indubbiamente assolutamente allora chiuso parentesi andiamo un pochettino a parlare delle sue skill allora riassumendo sempre il pg per me è molto forte molto valido ma i danni li fa è ormai incontestabile l'abbiamo visto nelle prove i danni ci sono si possono fare dei team carini con lui il pg c'è quello che dicevo nello scorso video è comunque è un ennesimo di ps fisico va bene per chi magari ha pullato anche aiolos dc e finalmente può usarlo un pochettino di più nei limiti di quel che comunque restano di quel pg che secondo me è quasi un pg facoltativo è pseudo inutile se non in alcune comp di account grossi che hanno stats grosse e ti shottano anche con qualsiasi pg ok è l'ennesimo pg che secondo me è difficilmente trova spazio se non per colpa di banner o magari per voglia personale di utilizzarlo chiusa prima parentesi che ne pensi io penso che lui ecco va a coprire una fascia diciamo così di prodotto sul mercato che è abbastanza satura però noi sappiamo che ora con i ban avere delle alternative è sempre una cosa verina e quindi secondo me per non portarla molto a lungo non possiamo dire che non serve né tantomeno però che è obbligatorio no obbligatorio sicuramente no questo penso ci sia dubbio quello che secondo me è importante è che questo pg per le sue caratteristiche di resistenza o unite al danno che come hai già detto hanno aggiustato quindi è molto forte giocato con i doppi che lui già diciamo ha insiti nella sua meccanica avere anche un underworld un iolos che lo aiuta in tal senso è ancora meglio però la sua caratteristica secondo me interessante è quella che essendo molto tankoso molto resistente può andare ad aiutare le comp che giocano in questo modo cioè avere in una brilliance o in una comp aggressiva lui o Shura cambia onestamente poco certo qualcuno può dire ce li mettiamo tutti e due esatto perché no però voglio dire secondo me il valore aggiunto poi iolos e poi si confonde il valore aggiunto suo secondo me è quello che anche da solo cioè lasciato lì e in una comp magari si basa più sul danno in secondo o terzo turno con un paio di difese con Shion con Ophiuk non lo so capito con Eros con pg un pochino che controlla no lui può dire la sua perché poi è devastante e resiste tanka molto bene rispetto a un normale dps fisico ecco questa è la sua caratteristica che secondo me è molto carina ed è quella che aveva anche un po' radamante vecchio ma lui diciamo migliora in questo migliora la sua caratteristica per il resto dopo che è stato ritoccato ovviamente è migliore del vecchio radamante l'hanno aggiornato ormai non c'è più paragone nelle prime fasi delle prime partite con la sua forma beta ancora mi faceva nelle partite più male il vecchio radamante anche perché si caricava prima nel turno due già aveva le sue quattro stack di ali e iniziava a shottare come un pazzo lui esatto carburava un po' più difficilmente anche perché ha due tipi di stack una che si carica col base una che è solo sotto i 70 insomma era leggermente più lentino tutto qua e doveva essere usato anche con più testa devo dire lui è un pochettino leggermente più tecnico perché anche le cosine dei sottotesti nascosti nel suo modo di utilizzo che possono cambiare secondo me c'è da farci un po' di pratica ecco adesso lo vediamo un po' nelle skill per quello che hai detto tu tutto giusto concordo mi piace che ci sia questa lieve differenza con Shura DC nel senso Shura DC si scuda un pochino però come dicevi anche tu un colpo bello una skill di Thanatos quella multipla colpi multipli o qualche cosa del genere glielo fa cadere molto facilmente mentre lui è molto più resistente quindi secondo me per account più bassi più scarsi più no più scarsi più più bassi lui forse lo è un pochino più adatto rispetto a Shura perché appunto resiste meglio e ha delle particolarità che lo rendono carino in account più bassi in specifico mi riferisco alla skill mi sembra questa vediamo dov'è no ok questo è il castigo infernale lui praticamente che sale aggiunge degli effetti in base a quante volte stacca appena arriva a 7 e 9 istanze cioè i colpi aggiuntivi inizia a fare male in percentuale in base ai punti salute del bersaglio che è una cosa molto interessante perché se tu ti trovi davanti una bella Persephone pompata gli fai più danno o un account più grosso gli fai più danno non che questo secondo me ti faccia vincere la partita perché non vinci con questo 5% di danno in più che è ok però però secondo me lo rende un po' più adattino agli account più bassi come faceva ai tempi un po' Pandora Commander quando lei trasformava in minions un personaggio più grosso e gli dava più vite e quindi più resistenza e possibilità di fare più danni e quindi con account più grossi contro di te e ti dava un piccolo vantaggio ecco una cosina del genere quindi lo trovo un pochino più adatto rispetto a Shura negli account più bassi è più resistente fai comp un po' diverse se fai comp che vanno più a lungo tempo diciamo che durano di più e sei bello resistente già di tuo preferisco secondo me sempre Shura perché poi Shura sbrocca e non lo so Shura diventa incontenibile veramente secondo me attualmente se è lui il DPS più forte fisico secondo me se è saputo utilizzare pure quello nel team giusto con l'account giusto ti contro questo ti resiste un po' di più quindi questa piccola differenza che ne dici può essere una giusta osservazione quella che tu fai sugli account un po' più bassi nel momento in cui incontrano qualcuno più grande perché poi la parità di account dipende dal playstyle io continuo a pensare che Shura è più da comp veloce e lui è un po' più da comp lenta però fatta una comp apposta per essere veloce perché Shura ha bisogno pure di sparare un po' di volte quindi gli devi dare il doppio turno devi mettergli magari un gemini surplice per amplificare i danni insomma gliela devi consare pure la squadra infatti perciò ti dicevo dipende molto dal playstyle perché ormai partita aggressiva e partita difensiva non è più come una volta 5-6 turni con Jun le cure eccetera ora partita difensiva significa che ti dura al massimo 3 turni ma massimo è vero ma proprio devi esagerare altrimenti e quelle aggressive che io considero durano un turno massimo a inizio turno 2 è finita perciò dico Shura così perché io Shura ormai lo conosciamo bene e ci sono tanti modi se tu non lo banni per evitare che lui a terzo turno faccia il macello quindi ho quello lì per me Shura non ce l'ha più quella caratteristica cioè non me lo trovo mai ad affrontare così perché se non lo banno ho un Eros ho un controllo ho qualcosa cioè non arriva a quella a quella fase lì ti fai danni importanti con i doppi turni nei primi turni lo controlli e lo tiri fuori è il primo che butti giù sì però tra i due PG secondo me è più controllabile Radamante per vari aspetti sia perché quando torna in vita c'ha anche Orfeo gli rompe le palle perché quando lui torna in vita se c'è dall'acciato Orfeo lui non si piglia gli HP quindi uno sputo e muore oppure lo puoi frizzare con anche Yoga DC mentre Shura ancora non ho capito se quando è bloccato i suoi colpi quelli a inizio turno li fa lo stesso anche da congelato cioè si libera certe volte e ti butta giù lo stesso il team cioè quella raffica così però non è molto forte cioè nel senso eh dipende a che punto te la fa però in realtà poi fa ancora più male dopo cioè lui quando si purifica riesce a tirare l'attacco automatico inizio turno sì prima che tocchi di nuovo a lui a me è capitato spesso perché prima di diciamo la season scorsa io lo lo fermavo spesso con il freeze team e quindi ti posso dire che faceva però ripeto ora che lo conosciamo bene Shura per me è diventato molto 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 certo rispetto agli inizi rispetto agli inizi sì diciamo il controllo più bello è marchiarlo con Oniro veni Oniro lui può sparare quello che vuole fare tutte le laffiche che vuole saranno tutti belli film questo sì è quello ovvio penso ti riferissi al controllo mentale di Saga Sapuri il controllo mentale è ancora più bello quello è stupendo resta lì piange però anche lì devi stare attento perché se lo fai nel turno in cui lui poi raggiunge la purificazione si toglie si toglie il controllo lì bisogna stare diciamo Shura ha queste piccole chicche che insomma lo rendono secondo me sempre un gradino sopra rispetto a lui sì ma per forza sono d'accordo anch'io che ha un gradino sopra per forza hanno dovuto dargliele perché da buon dc è completamente di burro per cui se non avesse quello scudino davanti se non si rifullasse con il rubavita e le raffiche automatiche cioè lui sarebbe veramente da mandare giù con uno sputo e quindi ci sta che il pg è così però diciamo sono due pg che possono stare anche insieme loro due dipende molto dal playstyle io mi sento di dire questo dal playstyle e dalla come dire dalla voglia che è un pg da quanto gli piace un player da quanto gli piace da quanto vuole utilizzarlo io che non non sono molto appassionato degli spectre in generale ma soprattutto direi d'amante che è quello che mi piace di meno perché lo trovo un ignorante patentato quindi non mi attira per assolutamente per cui diciamo questo è il succo però è un pg forte è un dps valido ne abbiamo altri secondo me ok poi magari quando vuoi fare la riflessione trospettica su quello che uscirà dopo perché io dico queste cose e decido di diciamo di non puntare su di lui molto anche per quello che c'è dopo esatto esatto e poi ci arriveremo probabilmente con un prossimo video dove parleremo di lui e poi con lui faremo il confronto con Radamante con quello prima ok va bene allora due paroline sulle skill allora lui dalle prime versioni è stato leggermente ritoccato quella si prende più stack ad esempio con questa skill mi sembra vediamo io ora le ho lette tutte insieme sì che a livello 4 l'avido ruggito prende due cariche invece di una quindi diciamo hanno aumentato i danni anche del base il base fa un danno devastante infatti ora arrivo a quello che voglio dire perché il base si prende il 20% di attacco aggiuntivo per numero di cariche cioè è un casino di danno tanto che alcune volte riesce a shottare tranquillamente puntando col base allora io mi chiedo rispetto allora tra l'altro sì ha un base molto forte così tanto per chiudere il discorso c'è il doppio turno automatico lo sappiamo risorge da solo lo sappiamo quindi è come se avesse una resurrezione gratis un fucsia integrato è molto resistente l'abbiamo detto fa male col base bla 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 castigo infernale molto utile perché non è ad mutsum un pochino come il vecchio radamante ma fa più danni al target centrale e anche mi sembra i due accanto dopo sì quello prima e dopo in ordine di speed sì non mi ricordo dov'è però insomma fa danni a quelli prima e dopo sì ora non ricordo dove sta scritto il consiglio è molto sul target questa è una cosa positiva ok quindi diciamo è anche un pochino più controllabile rispetto ai normali aoe detto ciò il suo diciamo il motivo per cui mi spinge di più a saltarlo è la sua mole eccessiva di tomi richiesta nelle ultime analisi che hanno fatto i big come Cax o l'altro non mi ricordo Iara Iuschi come Cax si chiama lotavano mi sembra 4-5-5-4 o 5-5-5-4-3 l'ultimo una cosa del genere quindi comunque stiamo parlando di tantissimi tomi che uno dice non tutti ce li hanno ora io mi chiedevo se poi andandoci a ragionare su se ci fosse una versione molto 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 economica in tre level quella tipo pezzente che magari non tutti accettano perché ovviamente ormai chi c'ha i tommi se lo fa e buonanotte io pensavo che il base sia quello ancora più necessario del castigo infernale perché io questo pg così resistente dico boiate fermami lo andrei me lo immaginavo in un team con sasha in un team con sasha dove lui tira delle bordate con il base tirando il base lui si carica le stack quelle dove si alza le difese io gli lascerei a uno proprio per non dare tomi a cuore del sangue divino che è quello che gli permette di risorgere anche perché l'azione extra una cosa bella di queste skill sono che alcuni aspetti importanti non cambiano salendo di livello la skill per esempio il turno extra ce l'abbiamo sempre con lo stesso numero di skill che sono le 10 cariche di sangue divino non è che se io alzo la skill cambia qualcosa cioè noi aumentiamo soltanto i danni il funzionamento del pg la cosa strana è che è sempre questa quindi 40% per esempio se superiore al 40% che piglia il guadagna castigo il 70% sangue divino queste meccaniche non cambiano 40 e 70% non cambiano salendo la skill aumentano soltanto i danni quindi per chiudere hai visto questa cosa i danni recupero ps diciamo nella fase di impazzia esatto però però diciamo tu stai morto vuol dire che la partita è già messa male io punto a un discorso se questa mossa mi faccia vincere la partita o al massimo ti butta giù un pg quindi proprio per volerlo giocare io farei 5 a forza di sparare base nel team con sasha quindi base si alza le difese ed è la mossa che fa più danno castigo infernale va fanculo anche perché lo farei con un doppio turno questo onestamente questa che cosa fa questa comunque ti carica le stack e già lo fa di suo e alzerei questa perché aumenta questo il danno in base alle stack che hanno i nemici quindi io questa la porterei tipo 4 o 5 massimo quindi ti avrei provato con un 5 1 4 1 che questa ci fa perdere soltanto l'azione extra ce l'ha lo stesso praticamente questa permette di fare danni maggiori a chi è soggetto effetti di controllo quindi a meno che tu non fai un team espressamente così che lo vuoi mettere con hypnos con altre cose non te ne frega niente continuo a combattere anche se muore questo non me ne frega niente io questa skill finale la lascerei nel bidoncino che ne pensi troppo pazzia sta cosa di sicuro è una è un'alternativa diciamo low cost dove tu vai a stringare veramente su tutto non so io penso che il castigo un pochino più alto debba andare e anche tu alla fine non penso puoi soltanto fare i base arriverà il momento in cui devi sparare e io penso sto leggendo come scalano le percentuali penso che minimo minimo apri lo devi portare diciattra minimo eh sì almeno il rebate almeno la così io penso che questo pg se uno lo vuole proprio saltare ok se uno vuole farlo per tempi migliori può fare un rebate lo vuole lasciare per tempi migliori può fare un rebate 3-3-3-1 sì oppure se un tomi li ha fa 3-3-3-3 si spende 12 tomi due gliene tornano è un investimento da 10 tomi che uno dice vabbè poi col tempo se mi piace lo recupero però provare come dici tu una versione giocabile e usabile quindi così potrebbe starci però ti ripeto credo che almeno un po' più alto il castigo lo devi dare perché il base ok però tieni presente che con Sasha devono toccartelo prima capito sì infatti altrimenti non parte mai ormai penso sia fuori meta fuori luogo non si vede proprio più il yoga gold yoga che mette le croci quindi no vabbè infatti infatti va bene io penso che abbiamo detto tutto come Cosmi non c'è praticamente niente da parlare vabbè lui questi me li ha messi in automatico ovviamente non sono proprio giustissimi diciamo che ci vuole sì Pierce in attacco magari il barocco oh sì il barocco per chi non ce l'ha i rami e ci vuole il borned sicuramente perché fa danno e questi vanno benissimo in aga sì sì e poi centrale sì il two horned gli vuoi far far danno è questo che lui è un pg molto lento comunque non penso se va più di tanto andarsela ad accelerare visto che comunque lui è bello tankoso lo accelereranno solo le brilliance che lo vuole buttare in brilliance eh sì infatti perché questo pg purtroppo funziona molto bene in brilliance appunto per tutti i discorsi di base che dicevo prima ma tanto banniamo artemite e al solito e va fanculo quindi sarà sempre il pg bannato della storia più bannato della storia del gioco concordo niente onestamente cioè mi sarebbe piaciuto utilizzarlo ma i tomi ce n'è pochi e onestamente li teniamo per il prossimo pg che forse fa qualcosina in più eh sì sì e poi dopo questo possiamo dirlo dopo il prossimo pg sarà la volta dell'ss quindi ma molto probabile molto probabile quindi diciamo che è un momento critico anche se la finale era un ex quindi effettivamente ci manca l'ss ora ci manca l'ss del 2023 per cui arriva in un momento critico la damante bel pg carino è sempre un momento critico anzi voglio dire questo non sarebbe nemmeno tanto un momento critico visto che il personaggio prima è stato molto 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 schippato tranne da me che sono stronzo che però onestamente non me ne pento perché io vado alla ricerca mi sono accorto di pg particolari che facciano cose diverse il pg che fa danno non non mi basta più anche perché ce ne sono ti dico la verità dai ogni tanto io a smita lo tiro fuori e lo gioco perché se l'avversario gli sparigli le carte anche perché ora si gioca tantissimo serafina e lui la blocca si gioca tantissimo ipnos e lui lo blocca quindi diciamo oneros 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 esattamente quindi non è assolutamente sirio ora sono io ho trovato gcanon se ce l'hai più veloce eh no ma gcanon anche perché ti mette il muto a 1 e ti evita di schillare appunto ma io ho trovato negli ultimi 3 giorni 2-3 sirio e al posto di sprecare il marchio di ipnos su sirio ci metti tanto bello il controllo di lui può attaccare quanto vuole ma anzi non attacca più niente non attacca e forse scuda forse non scuda nemmeno non mi ricordo perché il problema di sirio repair è che continua a scudare il team non mi ricordo se lo fa con il marchio di asmita non ci ho fatto caso perché ripeto è andato poi giù facile perché non facendo counter ovviamente ma Nicolbo nelle mie comp finora regna sempre sovrano ma Nicolbo PG top tira tutto giù uno degli ultimi obbligatori esatto ora vedremo col prossimo come va vediamo perché mi aspetto molto un ritorno del bleed quindi per gli appassionati a Shura e anche ad Atex tra l'altro Shura Repair è pesci con sanguinamento quindi ne vedremo un po' delle brutte quindi altro che Radamante io ho un po' paura del futuro esatto va bene io sul Radamante non ho altro da dire onestamente e anche io carino se i tomini avete fatelo perché è anche simpatico io l'ho provato molto in sacred ripeto è forte questo non l'ha messo in nessuno ma in dubbio è un pg forte quindi non traete conclusioni che stiamo dicendo che il pg è scarso però l'abbiamo già spiegato a sufficienza ai nostri punti di vista esatto se avete budget fatelo altrimenti pensateci poi chi preferisce lui ad Afrodite Divino vediamo vediamo se riusciamo a fare un video per tempo entro il suo banner così magari le persone riescono a decidere un po' meglio su questo o ottenere per il prossimo vediamo va bene va bene ragazzi un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima ciao